Accogliamo con favore la sospensione della revoca disposta per i comuni in attesa dell'approvazione della legge finanziaria che consentirà agli enti locali interessati di poter accedere ai fondi, ad affermarlo la sindaca Cecilia Francese dopo l'approvazione della delibera regionale numero 794 del 29 novembre. L'amministrazione, dice la sindaca, ha da subito attivato una proficua interlocuzione con i canali regionali perché i comuni che hanno residui di mutui avessero un ulteriore possibilità di utilizzo di quei fondi che per il comune di Battipaglia significa la possibilità di avere accesso a 1,5 milioni di euro che intendiamo investire per la manutenzione viaria. È stato un ottimo lavoro di collaborazione e ringraziamo la regione per aver compreso fino in fondo le ragioni delle amministrazioni comunali, soprattutto le realtà come la nostra costrette al riequilibrio pluriennale. Questa sospensione in attesa della finanziaria, conclude la sindaca, ci consente di tirare un ampio respiro di sollievo permettendoci di lavorare duramente per programmare la manutenzione straordinaria della rete viaria cittadina per la quale il nostro staff di progettazione è già al lavoro.